meno secondo la più brutale e violenta logica dei padroni e questa è la realtà della nostra cultura e non c'è nessun partito tranne la nostra coalizione che dice dobbiamo applicare il contratto collettivo, dobbiamo combattere il lavoro nero, dobbiamo fare sì che un bracciante non veda nella stagionalità del suo lavoro una mannaia e prevedere forme di sussidio che accompagnino il regno durante tutto l'anno e non può essere solo l'indennità di disoccupazione serve un'altra volta uno stato sociale vero, vero, serve uno stato sociale vero e serve l'impegno di questa regione a salvare il lavoro, a salvare il lavoro iniziando da quello che è diretta competenza della regione